Allora, ci siamo, benvenuti in una nuova potenza di Urban Chaos, in questa missione difficilissima, veramente odiosa, che si chiama i Caduti, in cui dovevamo trovare i 5 indizi su un omicidio, e fronteggiare la nuova banda dei Worldcats, benissimo armati, fucili, mitra e quant'altro, e nuove guardie del corpo di Bane, che sono i damerini, in cui vedremo in questo filmato. La missione è veramente fastidiosa, difficile, dovuto anche a vari bug da gioco, che danno veramente fastidio. Eccoli qui i damerini, tanto nel filmato. Adesso noi iniziamo subito la missione. La tecnica mia, serve andare subito alla scena del crimine, senza perdersi troppo in combattimenti, in cui perderemo l'energia e quindi ci fotteremo fin da subito. Ecco, e io mi perdo già in combattimenti. Eh vabbè. Sì, se ci decidiamo. Tanto la gente è come sempre falsa, va avanti, va indietro. Fa un po' il cazzo vi pare. Un altro quanto intelligente, uguale che fa. Salta, per poi essere subito arrestato da me. Ecco, adesso ci armiamo. Ok, siamo alla prossimità del parco. Ecco, mi ha fottuto in pieno. Mi ha proprio fottuto in pieno. Come vedete, alle prime minacce, lo butto subito a terra. Poi, magari in questa parte sentirete meglio la mia voce, dato che sto utilizzando un altro modo di comunicazione. minacce, non è nulla, non è nulla, non è nulla, non è nulla, è solo che sei morto. merda. Ah, merda. Cazzo, ma che ho sparato? Se vi ho sparato un passante? Vabbè. Non so se sarà mica offeso. Allora, qua c'è resistenza. Ecco. Quando mai? No. Mi ero appena curato. Cioè, andate a fare in culo. Veramente, siete fastidiosissimi. E poi, proprio in un istante antipatico, prendo la mazza, ecco, così impari. Cioè, ero pronto ad andare. Eh, non guarda che c'è un nudi kit. Allora. Proseguiamo per la scena del crimine. Eccoci qua. Adesso, partirà un filmato. In due periodi si parleranno dell'omicidio. E' bello questi modelli, ben fatti. Vabbè. Adesso parliamo con l'agente Arnie. Sì, hanno crivellato un poveraccio. E qua avremo, diciamo, il primo, la prima indicazione di dove andare, con questa inquadratura dell'auto, diciamo, tra un damirino sul tetto. Quindi, sappiamo già dove andare, andremo dietro la scena del crimine, andando per il passo con il filo spinato, dovremo trovare, prendendo tutto questo guard. Il secondo, questa scala, che ci porterà, eh, ci porterà su, dov'è si trovava il damirino. Stiamo attenti che, o potrebbe, mettere fino alla situazione. E qua troviamo il primo indizio. E prendiamo il primo indizio. Mi ha trovato un altro omicidio, che è Al Islas, in cui le entrante coincidono con l'omicidio del ristorante. Vabbè, c'è, una sequenza di monitori di un polizio atto che c'è i cd, di non toccare niente la scena del crimine. La scena del UCPD è a finire, coppia! Wildcats controlla l'Unione City, ora! Ecco, bravo. Ah, ci andiamo a questa parte perché qua troveremo, ci è la Tempra. Dio mio, mi sono salvato per il rotto della cuffia. Dovremo trovare anche due riflessi qua. Perfetto. Sono sbagliato che c'è da adesso anche resistenza. Che parola questa telecamera. Poi mi sbaglio pure, non c'è neanche la resistenza. Dopo la delusione. Allora. Dovrei scendere qua, adesso. Tornare di nuovo su quella sponda. Intanto sento un accoltellamento. Ce la posso fare? Sì. Perfetto. Non so, riscendiamo. Da ciò che sto facendo la strada per non farmi male. Che più maggiore, chissà, si può anche buttare direttamente giù. E puttati, cazzo. Cioè. No.